Buongiorno a tutti, oggi è il 13 luglio, secondo gioco dei campi, siamo abbastanza franti, a molte maggio, siamo stanchi, tira un certo vento, adesso arrivano gli altri, andremo a far colazione, poi si andrà a fare i sedizi e poi si gioca. Grazie per la visione! Calcio! Abbiamo finito di mangiare e adesso... Sai quanto ci ho messo per arrivare a scuola? 35 barra 40 minuti. E' tanto o poco? Montemaggior a pallo! Mi sono sfondato un tallone giocando a pallavolo, però abbiamo vinto, noi Hobbit abbiamo vinto solo il torneo di calcio. Adesso andiamo a preparare il fuoco e poi ci vediamo per giocare. Magari abbiamo appena toccato il cuo. Per battere anche... No, non io perché ho le mani in mano. Sì, non ho mai appena toccato il cuo. No! 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 Ciao a tutti, ciao a Vento della Madaglia! Oddio, guarda la foglia! Abbiamo finito la partita strigone, adesso ne facciamo un'altra, ne facciamo un'altra, un'altra... Io ero l'uno! Ciao a tutti! Allora, dopo un pomeriggio intenso... Ah, è male, mi sono a bocca! Abbiamo finito di giocare, ci siamo fatti la doccia, adesso andiamo a mangiare e poi fuoco! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!